La cabina numero 4 della funivia del Mottarone, quella rimasta sospesa in aria dal 23 maggio scorso, è stata riportata alla stazione dell'Alpino. L'intervento è stato eseguito dai vigili del fuoco del comando provinciale che stanno conducendo le delicate e complesse operazioni della rimozione dei rottami della tragedia del 23 maggio scorso dalla vetta. La cabina 4, la gemella di quella precipitata, si era bloccata alle 12 al momento della rottura della funetrainante. I freni di emergenza erano entrati in funzione regolarmente ancorandola alla fune portante. Purtroppo non era accaduto lo stesso per la cabina numero 3 il cui sistema frenante di emergenza era stato bloccato con la posizione dei forchettoni come tristemente noto dopo la confessione del capo servizio dell'impianto Gabriele Tadini. La cabina 3 era quindi schizzata all'indietro a velocità folle con il suo carico di vite umane. Alpilone si era sganciata cadendo a terra. Alla stazione dell'Alpino sotto sequestro è conservata anche la fune spezzata che era stata prelevata precedentemente dai vigili del fuoco.